Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il brando promontorio anticiclonico che negli ultimi giorni ha permesso cieli sereni sulla nostra penisola ha lasciato spazio ad una perturbazione proveniente da ovest che interesserà maggiormente i settori occidentali e centrosettentrionali dell'Italia. Nei prossimi giorni la perturbazione è prevista a spostarsi verso Levante con conseguente peggioramento del tempo anche sui settori adriatici meridionali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni. Per domenica 24 settembre. Al mattino cieli generalmente sereni su entrambe le regioni. Dal pomeriggio e sera aumento delle nubi ovunque con addensamenti più consistenti sul Salento dove saranno possibili deboli rovesci localizzati tra il basso Brindisino e le interne Leccisi. Nel tardo pomeriggio non sono da escludere deboli rovesci sulle zone appenniniche e sul potentino meridionale. Altrove molti nubi ma con bassa probabilità di fenomeni. Migliora in serata ovunque. Per quanto riguarda le temperature risulteranno stazionare o in leggero calo sia nei valori minimi che nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti meridionali e per quanto riguarda i mari da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro amico Alberto Calò per aver immortalato il magico momento in cui il sole alle prime luci del mattino illumina la bellissima Ostuni. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.